Sono il dottore Costarella, sono il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale d'Urgenza del GOM, nonché responsabile anche della Breast Unit del GOM, oltre che rivestire l'incarico di direttore sanitario aziendale. Ci troviamo alla Breast Unit che è praticamente un'unità operativa che l'azienda ha inteso a organizzare per favorire e privilegiare il percorso delle malattie oncologiche della mammella. All'interno di questa struttura, che chiaramente è dotata di attrezzature tecnologiche anche di ultima generazione, operano diversi specialisti che confluiscono nel percorso della Breast Unit. Per cui qui la paziente che ha un problema oncologico della mammella trova tutte le risposte necessarie affinché venga predisposto un piano diagnostico terapeutico che prende per mano letteralmente la paziente e lo conduce attraverso tutti quelli che sono i vari step. Intendo dire dalla fase diagnostica iniziale, alla biopsia, all'inquadramento diagnostico multidisciplinare attraverso una collaborazione con radioterapisti, oncologi, genetisti, chirurghi e viene garantito tutto il percorso. La paziente non dovrà minimamente preoccuparsi di fare prenotazioni perché nel momento in cui entra nel percorso della Breast sarà tutto, diciamo così, cura dei operatori della Breast procedere in maniera rapidissima a fare tutto quello che è necessario per la diagnosi all'inquadramento di questa terapia. Quindi noi in un tempo brevissimo riusciamo a concludere un piano diagnostico terapeutico anche nell'arco di 10-15 giorni. Sono Maria De Francesco, ho 59 anni, sono di Reggio Calabria e ho avuto questa esperienza, ho scoperto di avere un cancro con un tamponamento praticamente, poi ho fatto tutti gli esami, sono venuta qua dalla dottoressa che ancora non era in questo reparto, era nell'altro lato, era a luglio, luglio agosto, luglio e lei mi ha introdotto in questo iter e poi piano piano abbiamo scoperto, abbiamo fatto la chemioterapia però poi non ha funzionato relativamente e abbiamo fatto l'intervento il 23 marzo, è andato tutto bene, adesso procede tutto bene, io mi sento assistita al 100% anche per qualsiasi cosa, ho avuto un piccolo problemino, si è staccato un pochino il drenaggio, non ho nemmeno chiamato, sono arrivata e loro subito mi hanno risistemato il drenaggio perché mi perdeva liquido, nessun problema, se loro sono qua a qualsiasi ora vieni i limiti, loro sono sempre disponibili. Sono la dottoressa Maria Giovanna Notarangelo, dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia generale che ovviamente include anche il reparto di senologia, quella neonata breast unit. Io sono tra le varie figure che fanno parte della breast unit sono la senologa, diciamo il punto di partenza del percorso che iniziano le pazienti, le pazienti vengono qui da noi perché hanno già una diagnosi, hanno già fatto una prima esame diagnostico oppure perché devono fare esami diagnostici e pertanto vengono accompagnate in questo tragitto. Che significa? Che c'è una prima visita specialistica con noi e a cui vengono date alla paziente tutte le informazioni necessarie per seguire successivi step diagnostici. È un rapporto sicuramente confidenziale, cioè noi vediamo tante volte la paziente per cui diciamo si staura una confidenza, c'è un punto di riferimento che per la paziente è importante in quanto gli dà anche la forza e la strategia per affrontare questo percorso. Dal nostro punto di vista ovviamente si crea anche un legame affettivo perché per noi fa parte dell'entourage di un percorso che può avere la durata anche di anni perché ovviamente anche dopo essere state operate, le pazienti tornano da noi a follow up e per cui continuamente le rivediamo. Adesso ditemi voi cosa devo fare. Ora facciamo un piccolo controllino, la abbarutiamo un po', e vediamo un po' come fa. Non c'è tempo è passato dall'intervento. 23 marzo. Io sono la dottoressa Falcone, sono una radiologa del grande ospedale metropolitano, mi occupo anche di senologia insieme a un grosso gruppo di colleghi radiologi che come me fa senologia clinica, tra cui la dottoressa Calabrese, la dottoressa Tebbala, la dottoressa Tripodi, il dottore Ielo, la dottoressa Turano e il nostro primario che è il dottore Arcello. La nostra breast unit vengono per eseguire esami mammografici ed esami ecografici, sia per diciamo lo studio di prevenzione delle patologie mammarie ma anche perché magari percepiscono la presenza di qualcosa che non va. Entrano a far parte di questo circuito, di questo percorso per poi essere sottoposte alla visita attraverso gli altri specialisti del gruppo multidisciplinare. È molto importante la radiologia senologica perché l'esecuzione di questi esami ci permette di fare prevenzione, ci permette di trovare delle lesioni anche di piccole dimensioni per poter evitare di dover raggiungere dei trattamenti demolitivi. Infatti il messaggio che deve arrivare a tutte le cittadine regine e non solo è quello di eseguire gli esami di prevenzione mammografici in modo tale da poter scoprire preventivamente la presenza di eventuali lesioni e trattarle prima, cioè quando comunque hanno delle piccole dimensioni. Era un percorso diagnostico-terapeutico aziendale che già esisteva, però oggi ha una casa. Significa che non è più il paziente da spostarsi, ma il paziente che viene dentro questa struttura e fa tutto il percorso necessario. Chiaramente saranno necessarie altre integrazioni diagnostiche come da una mamma in risonanza per esempio, si farà in radiologia. Però l'ospedale è in grado di offrire il percorso diagnostico-terapeutico completo nell'ambito della cura delle malattie oncologiche della mammella. Quindi la migrazione sanitaria che esiste per questa patologia è del tutto immotivata. Il cittadino può trovare le risposte complete e desaustive all'interno di questa struttura. Sono Soccorsa Morano, mi occupo di medicina nucleare in un reparto che è diretto dal dottore Restifo e insieme ai tecnici e agli infermieri cerchiamo di dare la massima disponibilità a quello che è il percorso delle donne che si accingono diciamo in una situazione molto particolare della loro esistenza e questo viene fatto dal punto di vista diagnostico in medicina nucleare sia nella fase di chirurgica ma anche nella fase di stadiazione della malattia e quindi di percorso di cura. Nel nostro campo l'uso di radiazioni rende ancora più delicato l'approccio delle pazienti alla nostra diagnostica ed è per questo che è importante attuare in campo una particolare empatia nei confronti delle pazienti che arrivano non soltanto diciamo spaventate ed impaurite dalla malattia ma anche dall'approccio alle diagnostiche di tipo che usano appunto le radiazioni. Sono esami di eccellenza e di primo livello che nel nostro ospedale Il GOM riusciamo a fare già da tantissimo tempo quindi ci inorgoglisce insieme a tutto il gruppo, al nostro direttore, ai tecnici e agli infermieri e alla nostra caposala che in maniera molto puntuale riesce sempre a gestire diciamo anche l'approccio con le pazienti in questo percorso che devono affrontare. Tanti bravi medici, tante bravi infermiere, c'è un gruppo coeso proprio come si vede perché sono così, li vede? Non è che sono... e sono umani al mille per mille. Sì, io ho due sorelle a Milano, una sorella a Milano che già aveva portato tutto all'Humanitas e ho detto io chiudi tutto e me ne sto a Reggio a casa mia con le mie dottorie. È andato tutto benissimo sin dall'inizio, fino adesso va benissimo, vediamo, continuiamo così. Ciao, sono Anna Marchione, sono radioterapista e lavoro qui al GOM di Reggio Calabria. Assieme al mio primario, il dottore Said, facciamo parte della Breast Unit di questo percorso agevolato che da qualche anno ha preso diciamo piede nella nostra realtà. Fanno parte anche naturalmente, se non ufficialmente sulla carta, tutto il personale medico dell'Unità Operativa di Radioterapia, gli infermieri e i tecnici. Noi effettivamente arriviamo alla fine di tutto il percorso quasi sempre perché la radioterapia in una paziente affetta da tumore mammario viene erogata alla fine, dopo l'intervento chirurgico, la chemioterapia e quindi sembrerebbe un ruolo quasi terminale e marginale, ma in realtà non è così perché effettivamente noi stiamo a contatto con la paziente per tanto tempo. Le nostre, per quanto oggi siamo all'avanguardia, utilizziamo degli schemi di frazionamento radioterapici che vengono detti ipofrazionamenti, però vediamo le pazienti per circa un mese tutti i giorni. Quindi è chiaro che si viene a restaurare oltre che un rapporto diciamo di fiducia medico-paziente ma un rapporto veramente di amicizia, di rispetto, di confidenza. È un'equipa al femminile, è un'equipa al femminile, è un'equipa rosa perché la prevalenza dei lavoratori che lavorano dentro questa struttura è composta da donne. Devo dire che in questo diciamo così percorso ci aiutano molto anche le associazioni di volontariato che sono presenti all'interno della Brest e che danno un sopporto significativo anche nell'assistenza e diciamo così alle pazienti. La maggior parte di noi, sì, siamo donne, riusciamo comunque ad avere un rapporto empatico con le pazienti, non solo noi ma soprattutto il personale tecnico che è stato formato per poter eseguire questo tipo di esame. I nostri tecnici di radiologia che eseguono questi esami da tantissimi anni riescono a raggiungere in maniera empatico anche ad avere un approccio di grande sensibilità nei confronti delle pazienti che magari si avvicinano a noi spaventate, preoccupate perché non sanno effettivamente che cosa hanno. Ci sono anche delle pazienti che magari non eseguono gli esami per paura di sapere o di avere delle notizie diciamo non buone ma il messaggio che deve arrivare è quello che è la prevenzione e l'arma più importante che abbiamo. La prima domanda è dottoressa posso stare tranquilla? È chiaro che siamo donne e quindi dobbiamo cercare di trasmettere assoluta tranquillità anche nei casi in cui probabilmente un esame istologico, un tipo di intervento non ci permettono di essere così diciamo positivi. Però è chiaro che la tranquillità della paziente è importante perché se lasci tranquilla la paziente sicuramente avrai una chance in più nella cura della sua patologia. Io credo questo perché effettivamente le pazienti arrivano spaventate, finiscono la terapia con l'abbraccio, la riconoscenza e l'amicizia perché effettivamente i rapporti continuano nel tempo sia professionali che umani. Sì, ma tante donne, ma le donne capiscono di più alla fine diciamo. No, diciamo che siamo un po' tutte... come vi devo dire dottoressa? Ditemi la parola giusta. Siamo donne, siamo donne e basta. Siamo alleate, dobbiamo sconfiggere quello che ci fa più male. Grazie a tutti! Grazie a tutti.